L'esistenza ci fornisce nella complessità dell'evoluzione del cervello una serie di sistemi che ci permettono di affrontare le situazioni esterne, attive, sia di sopravvivere, sia di ottenere le risorse di qualcuno bisogno, sia di stare bene. Questi sistemi si evolvono in complessità dai rettili ai mammiferi fino all'uomo in cui l'opportunità data dalla complessità e il rischio data proprio da questa complessità in qualche modo si equivalgono. Il grande regolatore del sistema è appunto la morevolezza, è il sistema di cura che inizialmente è esterno, noi lo riceviamo da parte dei genitori, veniamo modulati nella nostra paura, nella nostra rabbia, nella nostra esistenza e nella nostra voglia di esplorare, ricercare, ottenere stimolazioni più piacevoli e poi più in là ottenere le risorse che ci servono per vivere.